2.000 imprese di cui 600 emiliane che verranno ospitate nella nuova area e quasi un migliaio di nuovi posti di lavoro destinati soprattutto ai giovani. Mentre proseguono senza sosti i lavori al CAB, ecco alcuni nuovi numeri di FICO Italy World, il parco dedicato alle eccellenze agroalimentari, che se tutto procede senza intoppi potrebbe aprire nel maggio del 2016. Nel grande progetto bolognese se ne è parlato alla festa dell'unità al Parco Nord. FICO è una grande opportunità per Bologna, ha detto il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che ha incontrato i vertici di FICO e del CAB e per il racconto dell'agroalimentare italiano. Soddisfatta anche Tiziana Primori. Per portare in FICO il dopo Expo ho visitato con tutti i capi delegazioni più di 20 paesi e devo dire con grande gioia per essere italiani tutti si hanno fatti complimenti come paese e hanno detto che siamo una volta tanto stati meglio di Shanghai. Questo penso che sia una nota positiva. Raccogliamo quindi come FICO una grande eredità perché l'agroalimentare può fare la differenza per l'Italia e la può fare, lo si vede già anche dai primi risultati, abbiamo fatto insieme alla città anche questo collegamento con il mondo arabo e avremo, come sapete, anche il volo giornaliero Dubai-Bologna e lo faremo perché in realtà tutte le aziende che stiamo contattando vengono volentieri con noi a creare questo grande primato italiano sull'agroalimentare. Dopo l'accordo raggiunto con i grossisti i lavori al CAB stanno procedendo senza intoppi. Il CAB in questo momento si sta preparando per il trasloco delle attività che ormai è imminente e quindi qualche disagio per i lavori sicuramente c'è ma pensiamo che nella nuova sede in sinergia con quello che FICO, che il parco potrà dare, ci saranno vantaggi per entrambi. L'abbiamo pensato così fin dall'inizio e non c'è motivo oggi per pensare diversamente anzi. Si lavorerà sulle stesse strutture su 24 ore, FICO lavorerà dalle 10 di mattina alle 10 di sera, al mercato tradizionalmente dalle 10 di sera alle 10 di mattina quindi non ci sarà un minuto libero.